l'uomo che la mette ecco è l'uomo che la mette ma quelle due befane non ci sono che ha scritto 250 messaggi oggi e due befanazze mando un messaggio all'apparatore l'apparatore una befana cioè non capisco cioè a rotti coglioni a rotti maroni in tutti i modi a rotti maroni in tutti i modi e con quello a fare lì allora paratore paratore befan di un apparatore vabbè vediamo se arriva hanno in tutti i modi e poi solamente buono ci sono esatto ragazzo sei